buona giornata amici di fano tv bentrovati alla rassegna stampa di oggi oggi venerdì 12 maggio 2023 e cominciamo subito la nostra trasmissione guardando chi è guidendo chi è il santo del giorno anzi i santi oggi sono due sono i santi nereo e achilleo sono due martiri pretoriani di nerone che convertitesi da san pietro furono condannati a morte e furono uccisi a terracina furono decapitati poi loro corpi furono trasportati a roma dove furono sepolti ancora oggi c'è una chiesa a loro intitolata insieme a loro fu anche così martirizzata flavia domitilla una nipote del console flavio clemente che era parente di domiziano e quindi oggi è anche la festa di santa domitilla santi nereo e achilleo e domitilla i santi del giorno vediamo le previsioni del tempo cambiamo la grafica e vediamo che il tempo è ancora instabile su tutta la regione ci saranno rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane le temperature sono stazionarie sono leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi 12 20 gradi ma sarà difficile che si raggiunga questo a questa temperatura forse si fermeranno a 17 16 gradi specialmente nelle prime ore del mattino comunque i venti sono deboli da sud nelle coste da est nell'entroterra il mare è leggermente mosso queste temperature per il weekend insomma non sarà un weekend soleggiato quello che si prospetta però le condizioni del tempo miglioreranno con l'inizio della prossima settimana apriamo il giornale Corriere Adriatico oggi sulla pagina di Fano e vediamo subito che per il maltempo come evidenzia la fotonotizia è stata rinviata la giornata della educazione civica che era stata programmata dall'amministrazione comunale per domani nei giardini di piazza Miano e con grande coinvolgimento di molte molte associazioni ebbene questa è stata spostata posticipata al 27 maggio prossimo e quindi domani non ci sarà è stata annullata l'apertura però è dedicata alla notte dei musei che ci sarà programmata per domani sera il museo civico di Fano con la pinacoteca la sezione archeologica rimarrà aperto dalle ore 21 alle ore 24 nell'ambito di un incontro sempre molto frequentato da famiglie da ragazzi da giovani anche da studenti infatti saranno in modo particolare gli studenti del liceo artistico a Polloni ad animare la serata elaboreranno faranno i loro disegni proprio lì all'istante si ispireranno ai loro quadri ai quadri che hanno lì nella nella pinacoteca oppure a disegni che avranno in testa ma soprattutto evidenzieranno le tecniche le tecniche o la sanguigna con il carboncino ma anche le tecniche che possono essere utilizzate con il web e quindi tecniche digitali ebbene l'iniziativa ieri è stata presentata dall'assessore alla cultura Cora Fattori insieme a coloro che animeranno la serata ovvero i responsabili del liceo artistico il preside Samuele Giombi e il professor Paolo Tosti che ha coordinato l'iniziativa saranno in modo particolare i ragazzi più giovani quelli dei 14 a 15 anni ad animare la serata e poi ci sarà musica una bella musica musica jazz che sarà realizzata dal fan jazz club di cui rappresentante è Ippolito Lamedica vediamo qui tutti i personaggi in questa fotografia insieme a Flavia Casillo che è la funzionaria responsabile del museo per l'amministrazione comunale quindi una bella iniziativa che permette a tutti i fanesi ma anche i turisti che sono presenti nel nostro territorio di vivere una serata piacevole in un ambiente molto suggestivo e poi ci sono i progetti quelli che l'assessorato alla cultura sta elaborando per rendere ancora più attrattivo il museo museo che dovrebbe dotarsi di aule didattiche di laboratori per renderlo sempre più vivo e poi c'è l'iniziativa di rendere di ridare una sua funzione alla corte malatestiana che ora rappresenta un grande vuoto ebbene anche qui c'è una idea quella di ridarle la funzione teatrale più ridotta magari rispetto al passato ma sarà un luogo dove si potranno ascoltare concerti seguire commedie e incontri un luogo veramente molto molto bello passiamo alle altre notizie a metauriglia strade da territorio di guerra le due vie in modo particolare quelle di Sant'Egidio percorse da chi vuole evitare l'autovelox protestano dunque i residenti che chiedono di sistemare il fondo stradale lo vediamo qui in questa fotografia particolarmente sconnesso ma ci risulta che anche questa volta dicono i residenti l'asfaltatura di questa strada non è inclusa nel programma dell'amministrazione comunale ecco perché si insorge si chiede che venga inserita perché lo stato è veramente deprecabile e poi si parla della diga foranea del porto che dovrebbe essere consolidata perché è stata violentemente affrontata dalle mareggiate ebbene tutto era pronto per consolidare gli scogli però che cosa è accaduto quello che purtroppo cade non piuttosto di frequente non molto spesso ovviamente però insomma non è rara questa situazione ovvero la ditta è fallita e quindi ha rescisso il contratto l'amministrazione comunale ora si trova a dover riattribuire i lavori questa volta per fortuna non si fa una nuova gara non si fa un nuovo bando ma si scorre la graduatoria sperando che la seconda o la terza o la quarta effetti i lavori alle stesse condizioni che aveva offerto la prima che ha rescisso il contratto diga foranea la ditta fallisce deve subentrare un altro appaltatore allo stesso prezzo per non perdere i fondi e poi invece una buona notizia è quella che ormai è imminente l'inizio dei lavori per la chiusura del buco chiamiamolo così antistante la spiaggia di bagni carlo dove la corrente entrando perché non c'è alcun sbarramento dopo che tutto il resto della spiaggia di sassonia è stato protetto ebbene la corrente entrando ha mangiato molto della spiaggia della concessione allora la ditta che si è offerta di fare i lavori che stavolta è a pola sta caricando i massi e quindi da lunedì o martedì prossimo sarà il loco per cominciare i lavori lavori che dovrebbero essere terminati entro il mese di luglio in modo che insomma il cuore dell'estate venga così protetto e venga protetta anche la concessione in modo che il mare non mangi più la spiaggia. Eseguiti interventi di sostituzione del negozio si lavora a ritmo spedito nel reparto di ortopedia dell'ospedale Santa Croce torna la chirurgia ortopedica maggiore quella con gli interventi più seri più importanti a Santa Croce soddisfatto il dottore il dottor Meme. Ci sono voluti quasi dieci anni spiega il dottore affinché fanno tornassero interventi chirurgici di ortopedia maggiore ed in particolare di chirurgia protesica. Per il direttore di ortopedia questo è solo l'inizio finalizzato a separare gli interventi di chirurgia ortopedica programmata da quelli di traumatologia al fine di migliorare i percorsi sia a Pesaro che a Fano. Dunque Fano si riappropria di quello che è stato sottratto tra virgolette in passato. E poi abbiamo una protesta, un dissenso, un dissenso che viene pronunciato da Bene Comune. L'ASP che è l'azienda dei servizi alla persona non può aiutare i soggetti con fragilità. Una dura critica al progetto dell'azienda territoriale sanitaria viene anche dal partito socialista. Ebbene Bene Comune dice che privilegiare il criterio del risparmio a quello della qualità dei servizi da erogare è un modo di procedere che non va assolutamente bene. Le politiche sociali non possono essere ridotte a dare contributi e servizi a chi è rimasto indietro ma devono essere politiche attive per fare in modo che nessuno resti indietro. Quindi bisogna guardare anche in avanti ed impedire non solo dare contributi a chi magari ha delle necessità bisogna programmare in modo che quello di avere delle necessità non si verifichi più ed è veramente un'idea lungimirante. Ed ora vagliamo a Fossombrone. Fossombrone in questo momento è tutto immerso nel clima del Giro d'Italia perché domani è il giorno fatidico. Ecco il titolo che appare sulla pagina del Corriere Adriatico. È quasi, quasi tutto pronto per la tappa. Non si finisce mai di preparare ovviamente. I divieti e i parcheggi di domani sono delle notizie interessanti per la viabilità. Ovviamente tutto è concentrato per organizzare al meglio il Giro d'Italia e quindi Fossombrone dovrà un po' soffrire per le limitazioni imposte per favorire il Giro. Vediamo il senso di questa tabella. La viabilità domani a Fossombrone. Dalle 8 alle 20 chiusi. Viale Martiri della Resistenza. Dalla Rotatoria le mosse. Corso Garibaldi. Piazza Dante Leghieri. Piazza Petrucci. Viale Repubblica. Viale Cairoli. Viale Gramsci. Fino a Piazza Giovanni XXIII saranno chiusi al traffico. E poi dalle 11 alle 18 chiuse le zone di Calmazzo, Piancerreto e della provinciale Mondoviese. Per assistere alla tappa chiusa l'uscita di Fossombrone Est della superstrada Fano Grosseto. Dall'uscita di Fossombrone Ovest entro le 11 si raggiungono i parcheggi di Bocciodromo, parco archeologico ex-cia e consorzio. E poi per solo i residenti di tutta Fossombrone ci saranno parcheggi a Piancerreto nella zona del cimitero, la residenza protetta e parco fluviale. Qui si potrà mettere la macchina. Insomma ci sono disposizioni limitanti che cercheranno di appunto dare il miglio della viabilità a Fossombrone. E vediamo poi sul resto del Carlino, vedremo un po' il percorrersi di questa tappa. Anzi, possiamo vederlo subito. Possiamo vederlo subito perché eccola qua. La tappa, la festa del Giro d'Italia, domani l'arrivo e la pagina dedicata, l'intera pagina dedicata dal resto del Carlino a questa tappa. Vediamo come i corridori partiranno da Terni e faranno il valico della Somma. E poi insomma la strada che tutti quanti noi dovremo fare fino a dicembre per andare a Roma, per andare in Umbria, passando per il valico della Scheggia. E quindi venendo da Foligno, poi abbiamo ancora Spoleto, Foligno, Gualdo Tadino, Sigillo, poi abbiamo la Scheggia e poi giù verso Cantiano, Cagli, fino a arrivare a Fossombrone, dove i corridori dovranno fare le scalate dei cappuccini e anche delle cesane. Insomma sarà una bella tappa vedere questi corridori che faranno una lunga pedalata di 200 chilometri. La festa del Giro d'Italia, domani l'arrivo, Fossombrone addobbato con fiori rosa per la tappa con traguardo in via Oberdan. Si sale sulle cesane e ai cappuccini e vedete Fossombrone in rosa, con fiori, vetrine e un po' di fantasia. È la festa del Giro e c'è anche questo bel sorriso che vediamo perché insomma è una bella festa per la città metaurense. Allora torniamo sul Corriere Adriatico e passiamo a San Lorenzo in campo, dove il sindaco Davide Dell'Onti ha annunciato un sostegno psicologico per i neogenitori. Alle coppie un'assistenza psicologica, il progetto Family per il sostegno nei primi mille giorni post parto. Ci sarà un sportello di consulenza dove ci saranno due operatrici. Francesca Fortuni, che è specializzata nel sostegno pratico ed emotivo alle famiglie per il concepimento post parto. Ed anche Elena Mattioli, coach specializzata per la famiglia, che sono dei termini inglesi che supero, insomma. È una psicologa che può dare un sostegno, un aiuto considerevole, sia come fare, sia come affrontare certi problemi e anche per superare oppure per non incorrere nella depressione post parto, che è una condizione di salute molto pericolosa per le neomamme. Insomma, un'assistenza psicologica, tutto gratuita ovviamente, che i genitori di San Lorenzo possono usufruire. Ed anche Mondolfo entra nel gioco Monopoli, uno dei borghi più belli d'Italia nella edizione dedicata alle Marche. Un gioco che ha delle finalità di promozione turistica che Mondolfo non si lascia sfuggire. Giriamo la pagina, vediamo una notizia di Senigallia, che però riguarda l'Arciviese. Frontale da brividi nell'Arciviese, un'ambulanza si ribalta con tre feriti. Non erano a bordo, ma i tre feriti vengono provocati dall'incidente. Il mezzo di soccorso è volato nel campo dopo lo schianto con una Opel. Per fortuna non trasportava pazienti. Lo scontro frontale è avvenuto tra una Opel Mocca, accaduto poco prima delle 18, nel tratto di Arciviese che attraversa il territorio comunale di Ostravetere. E vedete qui in quali condizioni sono ridotti i mezzi. Veramente un incidente molto, molto grave. Almeno per quanto riguarda i danni delle mezze. Non sembra però che i feriti siano in pericolo di vita. E speriamo che se la cavino abbastanza presto. Vediamo anche qualche notizia sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, dove si parla ancora di turismo, dopo le dichiarazioni di Nardo Filippetti nella giornata di ieri. che ha dato un giudizio non positivo per la città di Pesaro che deve affrontare questo significativo traguardo che ha raggiunto ma che deve ora rendere palpabile di capitale nazionale della cultura. Filippetti, facciamo promozione insieme per Pesaro Capitale. Turismo, dopo il jacuzzi del patron del Lindbergh, Filippetti dunque, replica soft del Comune. E chi replica? Replica il vice sindaco Daniele Vimini, che è poi il responsabile principale di tutta l'organizzazione di Pesaro Capitale della Cultura. Piuttosto che risentirsi dalle dichiarazioni un po' forti di Filippetti, diceva beh, lavoriamo insieme per cercare di affrontare al meglio questa situazione e far sì che Pesaro ne tragga un bel vantaggio. Città inadeguata o no? L'invito è a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma sull'ospitalità si deve lavorare, si deve lavorare perché poi se non ci sono le attrezzature è inutile chiamare turisti a Pesaro. Cultura 2024, la condivisione comincia con la trasparenza. Luca Sguanci rilancia sul ruolo di artisti e operatori privati. Vediamo qui il Centro Arti Visive Pescheria in corso 11 settembre a Pesaro e Luca Sguanci che fa questa riflessione. Vediamo anche il maltempo. Il maltempo di questi giorni ha provocato una bomba d'acqua. Sono state allagate strade e magazzini, in modo particolare sulla strada di Val Gelata, la provinciale 32, a causa di tanta acqua che si è accumulata nella sede stradale insieme al fango proveniente dai campi limitrofi. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco perché la viabilità era veramente impossibile e quindi hanno dovuto ripulire la strada. E poi vediamo una truffa, una truffa che mette sempre sull'avviso le potenziali vittime. Che cosa è accaduto? Anche in questo caso si è usato il web per rubare, diciamo così, i soldi dal conto corrente di un correntista. Un messaggio trappola gli costa 10.000 euro. Ebbene, un cinquantenne pesarese è stato raggiunto da una comunicazione della banca in apparenza, ma non era ovviamente, era il truffatore che agiva in questo modo, che lo invitava a completare delle misure di sicurezza per poter continuare ad utilizzare il conto corrente e per fare questo doveva notificare il suo PIN. Ovviamente quando qualcuno l'ha fatto il truffatore si è subito appropriato di questa chiave per entrare nel suo conto corrente e gli ha rubato 10.000 euro. A questo punto il correntista ha fatto ricorso tramite l'avvocato Floro Bisello che è riferente dell'Asdusbef per poter così avere indietro i soldi dalla banca. La banca non doveva dare questi soldi perché insomma la questione era anomala e doveva capire che dietro c'era una truffa. Ebbene, questa volta il correntista ha avuto ragione. In questo articolo c'è anche un insegnamento come difendersi dal ripetersi di queste situazioni. La chiusura dell'azienda Marche Nord è la più grande rapina fatta al territorio. Biancani attacca all'incontro del PD a Villa Fastigi, Ceriscioli che interviene, dalla regione un mare di bugie e c'è appunto la reazione del Partito Democratico in merito alla politica attuata dalla Giunta regionale. Green Foxe, la strada è tracciata, riqualificazione per tutta la città. Questi grandi serbatoi saranno demoliti. E c'è una intervista rilasciata oggi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Foxe Petroli, Pierpaolo Fraticelli, che entra nel dettaglio dei passaggi per la riconversione dell'impianto. Ebbene, che cosa accade? In pratica, ha detto Fraticelli, prevediamo la trasformazione dell'attuale deposito di stoccaggio e movimentazione di carburanti, questo che vedete nella foto, attraverso la liquefazione del biometano. Insomma, si passa da una capacità di stoccaggio di 130.000 metri cubi a meno di 25.000 metri cubi con un'importante riqualificazione dell'area. Insomma, questi grandi serbatoi vengono demoliti, se ne fanno più piccoli e anche il paesaggio respira e l'ambiente ha un'impostazione meno impattante. Quindi veramente c'è un progresso per la lavorazione di questa azienda. Sulla pagina di Urbino, del Corriere, invece, si parla di un'iniziativa organizzata dal Lions Club, come cambia la sanità nelle Marche e qual è l'offerta del nostro territorio. E questo è il tema di un convegno organizzato oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, dal Lions di Urbino, con la partecipazione annunciata degli assessori regionali, Filippo Sattamartini, che ovviamente è quello della sanità, e Francesco Baldelli, che è quello delle infrastrutture. E poi ci sarà anche il presidente della Commissione regionale sanità, Nicola Baiocchi. Questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Ora apriamo il resto del Carlino, vediamo la pagina di Fano, che viene aperta da quello che sarà il cantiere della Wider. Ebbene, il sorgere di questa nuova costruzione ha sollevato tante polemiche, perché lo scheletro ha dato veramente una impressione brutta di quello che sarà e che è il panorama del porto rispetto a quello che era prima. In realtà tutto è in divenire. Ancora questo scheletro deve essere completato e questo sarà il risultato finale. Lo vediamo qui da questo rendering. Non sarà un cubo, non sarà un cubo di cemento, ma sarà una costruzione mossa e qualificata. La Wider, dice il titolo, sarà anche una scuola per i giovani. All'interno solgerà una struttura riservata ai ragazzi interessati al mondo della nautica, spazio allo sviluppo di nuove start-up, in modo da incentivare l'iniziativa creativa dei giovani nel campo della produzione, nel campo dell'economia. Sopra vediamo la vetrata, sotto il cantiere della Wider, visto dalla passeggiata del Lisippo. Ecco le due fotografie messe a confronto. Insomma, l'immagine è diversa rispetto a quella che si vede al momento, al giorno d'oggi. Artemista scatta il conto alla rovescia. Fano, capitale della genialità. È una mostra che viene organizzata nella chiesa del suffragio con opere dei pittori, generali, palazzi, Marano e Corsaletti. Verrà organizzata, sarà aperta al pubblico, dal 13 al 20 maggio. Vediamo qua invece l'articolo che riguarda ortopedia, ripartiti gli interventi, così si ridurranno i tempi di attesa, sono le dichiarazioni delle dottore Memè e poi la protesta di lupus in fabola per il prevedibile, anzi il previsto, taglio degli alberi conseguente all'ampliamento del sottopasso di Viale Cairoli. Lupus in fabola sul sottopasso mobilitarsi. Prima che sia troppo tardi, gli ambientalisti chiedono all'amministrazione comunale e anche ovviamente alle ferrovie dello Stato che esegue e finanzia il progetto, vadano ricercate soluzioni alternative per evitare o ridurre sensibilmente la perdita del patrimonio vegetale. Vediamo ora quello che accade anche nella periferia per le nuove asfaltature a Fano. Asfaltature avanti tutta, ora tocca a Bellocchi, saranno completati a partire dalla fine del mese, i lavori rimasti indietro nella zona industriale. E prima di concludere voglio segnalarvi anche questo articolo di Terre Roveresche dove vediamo una bella attrice che sarà la presentatrice di una iniziativa. La Sanremo del Ballo è a Terre Roveresche. Manuela Arcuri sarà la presentatrice dell'evento in uno dei dancing storici delle Marche e del Centro Italia ovvero il Tris protagonisti i top del settore. Bella questa iniziativa mercoledì prossimo dalle 21 in uno dei dancing storici delle Marche appunto il Tris. E questo per il momento è tutto. Chiediamo il giornale io vi do appuntamento a lunedì prossimo perché domani alla Rassegna Stampa ci sarà una bella sorpresa. Grazie per l'ascolto. A risentirci.